Riusciamo a stento a garantire le trasfusioni urgenti, dice Ferdinando Annarumma, direttore del servizio immunematologia e medicina trasfusionale dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Ma se persiste questa situazione, tra qualche giorno, le scorte di sangue a nostra disposizione termineranno del tutto. Di qui l'accorato appello del dottore Annarumma, che esorta i salernitani a donare sangue affinché si possa sopperire, nel più breve tempo possibile, a quella che è ormai un'emergenza. Mancano i donatori e la carenza si sta diffondendo anche a livello regionale e nazionale, aggravata dai timori legati alla pandemia. Timori ingiustificati, la donazione è sicura e non comporta nessun tipo di rischio. Di qui l'invito da parte dell'intera azienda ospedaliera salernitana, lanciato per sensibilizzare e spingere i cittadini a diventare donatori, incendivando un gesto di generosità ed altruismo che potrebbe salvare molte vite in pericolo. Donare il sangue, tra l'altro, è semplice. Basta recarsi tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 12, presso il centro trasfusionale del Ruggi, oppure nei centri Avis, che sono dislocati sull'intero territorio provinciale.